Salve a tutti amici di TechDifferent, questa è una prova di registrazione video in qualità HD 720p 30fps che è la massima supportata da questo Nokia Lumia 630. Vedete? Facciamo una prova di controluce, vediamo così come si adatta il prodotto. Adesso avete visto che ha perso un attimo la messa a fuoco, messa a fuoco che è di tipo automatico, proviamo con un soggetto ravvicinato e direi che è abbastanza rapida e avviene in modo abbastanza buono. Abbiamo il supporto anche allo zoom, che però guardate, quando facciamo un pinch a schermo, effettua lo zoom in modo praticamente completo. Ok, è molto fluido, però effettua uno zoom praticamente completo e non si ferma dove vogliamo noi. Questo avviene praticamente sempre con il pinch out, mentre invece con il pinch in è possibile regolarlo in modo migliore. Non so se questo sia una cosa voluta o se è un bug di sistema ancora. La registrazione video comunque mi sembra buona e devo dire che questo prodotto, pur essendo di fascia bassa, è dotato davvero di ottime caratteristiche. Grazie a tutti per l'attenzione e alla prossima da TechDifferent. Ciao!